Signor e signori, buona giornata e grazie per essere qui come una tradizione in Paris Motor Show del stand di Ferrari. Siamo facevamo un momento molto importante del Ferrari perché, prima di tutto, siamo all'inizio di un anno molto importante e, inoltre delle crisi internazionali, siamo particolarmente felici dei nostri risultati e, anche perché una parte del cuore del Ferrari è molto vicino a competizioni, come vedete meglio di me, siamo anche piaciuti che nella Formula 1 abbiamo vinto tre delle ultime cinque Grand Prix. Quindi, è meglio di niente e speriamo ancora, al final del anno, di provare a vincere la championship che ha avuto più di 60 anni il risultato di Ferrari ogni singola sezione. Voglio presentare a voi un'auto tecnologica romantica, perché è un'auto che presentiamo oggi per celebrare 8 anni di Pininfarina. Questo'auto è chiamato S.A. Aperta, S per Sergio Pininfarina e Andrea Pininfarina. Questo è un'auto completamente aperta, molto innovativa, con una ricerca enorme aerodinamica, e noi abbiamo costruito solo 80 esempi per celebrare 80 anni. Poi, siamo qui con la California, stop and start. La California è, per sempre, la leader del top car in termini di ecologia. Abbiamo presentato un'auto che migliorerà un 23% in termini di emissioni. Reduzire l'emissione è ancora una priorità per noi. Priorità per le auto, ma anche per la casa. Favamo l'automodificatore per installare l'automodificazione dell'automodificazione per rinforzare le standard Tokyo 10 anni prima. Siamo ora presenti in 57 mercati, con più o meno 200 venditori. Ma dal prossimo genio, avremo anche l'India. Quindi, siamo qui in 58 paesi del mondo. Questo è il Ferrari oggi. Nel prossimo anno, il CARES sarà tornato nella Formula 1. Abbiamo l'intenzione di usare la nostra caratteristica. Nel prossimo anno, avremo alcune nuove caratteristiche. E ogni anno, proviamo di investire molto nel prodotto per presentare nuove caratteristiche, nuove iniziative e nuove idee.